salve a tutti ragazzi video misterioso una persona afferma di avere un portale verso un'altra dimensione ecco qui la sua prova sarà vero ragazzi vedete questo cerchio chiamiamolo così vedete dall'altra parte ragazzi sembra che ci sia la neve o mi sbaglio quindi penso che dall'altra parte di questo cerchio ci sta qualcosa di innevato e si vedono anche mi sembra di aver visto qualche uccello camminare quindi non lo so sì sì eccolo qui sì un uccello camminare quindi ragazzi sinceramente io già ho visto questo video prima di cominciare a commentarlo e lo so che sembra assurdo ma questa persona afferma che lui ha questo portale che può viaggiare tra dimensioni dello spazio e del tempo vedete ragazzi allora è neve e poi c'è un piccolo lago quindi in effetti l'immagine sarebbe un paesaggio innevato con un laghetto davanti quindi dall'altra parte c'è un'altra cosa ragazzi perché se avete notato all'inizio del video vedete ci sta un albero quindi un albero tutta terra e erbacce che sono secche e poi in questo io lo chiamo cerchio specchio non lo so ragazzi portale non lo so come vogliamo chiamarlo vedete sembra uno specchio chiamiamolo così ma e dall'altra parte si accede ad un mondo particolare vedo la neve poi ho fatto caso degli uccelli che camminano eccoli qui e poi quello io pensavo fosse neve invece tipo un laghetto perché si vede che l'acqua si muove io non so che dire ragazzi lasciate un commento e ditemi che cosa ne pensate secondo voi è reale oppure no questo portale che questo ragazzo afferma di avere come sempre al prossimo video ma come sempre al prossimo mistero lasciate i commenti ragazzi sotto al video e vediamo che cosa ne pensate anche voi perché io sinceramente non lo so ciao a tutti e alla prossima news